Rivoluzione è la parola chiave in casa Bellinzago nelle ultimissime ore, perché altri addi sono arrivati dopo quelli di Crea, Scala, Crepaldi e Ciappellano. Nella giornata di ieri hanno fatto le valigie Zurlo, che ha portato l'altretico San Paolo in serie di Veneta, Montingelli, che è ritornato al Dertuna, Rossi, che ha portato all'Acqui, Anselmi, svincolato, e Mazzini, che ha chiesto ed ottenuto lo svincolo e che è in attantativa con la società lombarde di serie D ed eccellenza. A tutti i giocatori vanno i ringraziamenti per quanto hanno dato alla causa gialloblu in questi mesi. La comunicazione ufficiale della società di Patron Massaro. In rampa di lancio, pronti per alterrare a Bellinzago, ci sono gli attaccanti Visconti e Scaldaferro. Il primo si è già allenato con la squadra, ma ha rimediato un infortunio. Se a livello fisico ci sarà il lascia passare, sarà tesserato. Anche l'ex borgosesi a svincolato dovrebbe firmare nelle prossime ore. In questo momento, in vista della suggestiva sfida di domenica con la Pro Settimo, avversaria della scorsa stagione in eccellenza, cutting agli uomini contati. In attacco, ad esempio, ci sono solamente Massaro e la giovane Xixa. Io faccio con quello che ho a disposizione le parole dell'ex tecnico del Santià. Intanto a Borgomanero è sfumato un obiettivo di mercato. Rognone, che era stato accostato alla squadra allenata da Giorgio Rotola, dovrebbe finire alla junior biellese. Un buon acquisto per la squadra bianconera, che si gioverebbe della prestazione di un giocatore che negli ultimi anni ha sempre giocato in Serie D a Borgosesia, Chieri e Novi Ligure.